Un'organizzazione criminale che gestiva prestiti a usura utilizzando il metodo mafioso è quanto succedeva nella capitale prima che i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Roma intervenissero per sgominare l'associazione nel corso dell'operazione Luna Nera. 17 soggetti che hanno ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare per reati di associazione a delinquere, usura, estorsione e riciclaggio. Estorsione, usura, fittizia e intestazione di beni, esercizio abusivo del credito, molti di questi reati sono aggravati dall'articolo 7 della legge numero 203 del 91 che come è noto configura quella che comunemente viene chiamata, denominata l'aggravante di mafia. Le indagini hanno avuto inizio nel 2013 a seguito della denuncia presentata dalla vittima di una serie di estorsioni collegate a prestiti usurai. Dalle prime ricerche era emerso il rapporto illecito tra un noto imprenditore romano e due pluri pregiudicati campani vicini agli ambienti di Camorra e Ndrangheta. Questo gruppo sostanzialmente che noi abbiamo individuato a partire dalla denuncia presentata da una delle vittime delle varie attività delittuose utilizzava le ricchezze accumulate per svolgere soprattutto attività di esercizio del credito abusivo e di usura. Decine le vittime accertate, i malcapitati dopo aver richiesto ingenti prestiti in denaro, erano costretti a corrispondere ai tassi di interesse mensili fino al 20%. In caso di inadempimento subito venivano messe in atto dal gruppo criminale intimidazioni e ritorsioni con ricorso a violenza. Ad essere coinvolti anche due finanzieri infedeli che hanno approfittato del loro ruolo per accedere senza permesso a banche dati riservate. Ora la giustizia farà il soccorso.